Dopo la sosta del campionato di Serie D, questa settimana in occasione della Pasqua, domenica prossima, riprende con il Viareggio che dopo la vittoria di Scandici cerca nel derby con la Massese allo stadio di Pignale 15, con giornata bianconera in cui non saranno validi gli abbonamenti, i punti per la salvezza matematica. Per l'occasione verrà aperta anche la gradinata dopo i lavori realizzati per la messa a norma in occasione della Coppa Carnevale. Mister Pierini recupera gli squalificati Diana e Fiale e Rosati potrebbe essere vicino alla convocazione dopo la convalescenza in seguito all'intervento all'ernia. Mercoledì 30 la Massese dell'ex tecnico Sergio Battistini recupera in casa la gara con il Città di Castello, importante per la salvezza. Il Giviborgo invece la ripresa del Torneo va a rendere visita al Gubbio che con la conquista della vittoria della settimana scorsa ha raggiunto la vetta della classifica scavalcando il gavorrano del Condor Vitaliano Bonuccelli. Per i ragazzi di Pacifico Fanani che fuori casa si sono espressi sempre meglio rispetto alle gare interne si presenta comunque una partita da affrontare con la giusta concentrazione perché troveranno certamente un ambiente carico intenzionato a rimanere in testa per vincere un campionato che fin dall'inizio ha messo gli umbri nel lotto delle pretendenti al salto in Lega Pro.